è un luogo fisico ma anche un luogo immaginato, un luogo storico, un luogo dell'anima ricostruito attraverso l'artigianato artistico, quindi è un luogo nel quale le persone possono venire e riscoprire cose che non esistono più ma anche e soprattutto cose che continuano a esistere nonostante il tempo, una vera prova di resistenza. Sono ancora straordinari artigiani, dalla sartoria alla presevialità, all'arte orafa che ci rappresentano molto legnamente nel mondo, noi l'abbiamo già raccontata, questa storia che nessuna storia che non si racconti esiste, qui l'abbiamo raccontata a Dubai, l'abbiamo raccontata a Dubai che era Dubai nel 2020, poi l'abbiamo raccontata a Milano, a Procida capitale dell'anato, poi l'abbiamo raccontata a Milano, abbiamo tenuto banco per un mese e mezzo nella stazione centrale di Milano per raccontare questa storia, la continuiamo a raccontare e qui l'abbiamo ricostruita, la facciamo vedere com'era e com'è, ci troviamo in un salotto, un tipico salotto napoletano con tutte le ricchezze, un tipico salotto napoletano con i suoi elementi di artigianato antico ma anche i suoi elementi di gusto. Qui parliamo anche e soprattutto di un fattore estetico e la Campania, l'antichissima tradizione estetica campana e qui racconta delle storie che sono assolutamente inedite. fattona a Milano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.